Le Sanctis, tempo di caccia, ci sono delle date, ci sono anche dei vincoli dell'Unione Europea e voi attraverso un comunicato avete contestato alcune specie di caccia che la Regione Abruzzo ha autorizzato e che non rispetterebbero questi vincoli dell'Unione Europea. L'Unione Europea chiede di non permettere l'attività venatoria in due periodi dell'anno, in particolare su alcune specie ovviamente, e cioè il periodo della riproduzione, quando ci sono addirittura i pulcini nel nido, è ovvio che l'Unione Europea dice non sparate agli adulti che devono alimentare quei pulcini, e poi nella stagione di migrazione preriproduttiva, cioè quando gli adulti che hanno passato l'inverno devono partire per andare a nidificare. Ecco, in questi due periodi non si può cacciare e invece in Abruzzo la Regione consente di cacciare il Colombaccio anche a ottobre, che è periodo riproduttivo secondo l'Unione Europea, poi ci sono dei documenti tecnici dell'Unione Europea che dicono quali sono queste date, diciamo così. E poi il Tordobottaccio 10 giorni in più a gennaio, il Germano Reale 20 giorni in più a gennaio, queste sono le scelte della Regione, quindi noi riteniamo che sia stato fatto un grave errore perché per correre dietro ai cacciatori, diciamo, ne fanno le spese, specie che sono patrimonio di tutti. Poi in realtà la Regione Abruzzo consente anche l'attività venatoria a specie molto rare nella Regione, come il frullino e il codone, che è una specie di anatra, e poi anche su specie che stanno in forte diminuzione, come la lodola e la coturnice.